Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato, oggi video super irrelax, è venerdì e per chi vive nei paesi arabi è giorno di festa, quindi sono venuto a fare il fine settimana a casa mia a Dubai, potete vedere la vista sul lato destro del mio schermo dalla mia camera, sono bello svaccato sul mio letto e partiamo con notizie gioia, perché oggi è giornata di gioia totale, partiamo, anzi parliamo scusate, di una delle aziende più woke, progressiste, liberal, sinistrate d'America, Starbucks, che io ce l'ho sempre avuta sul gozzo per non dire sui cicci sbei, altrimenti magari rischio di essere censurato per linguaggio scurrile, perché è un'azienda che vende il cappuccino a 5 euro o a 5 dollari per me dovrebbe chiudere il giorno dopo. Ora, Starbucks, dovete sapere che come dicevo un'azienda molto molto inclusiva, così progressista, sono così buoni quelli di Starbucks, sono così buoni che tutti gli anni per il mese del Pride si distruggono economicamente per decorare ogni singolo caffè d'America con le bandiere, con le decorazioni, con le tazze da vendere al pubblico, con l'arcovaleno, con scritto i diritti di LGBT sono di tutti e più, chi più ne ha, più ne metta. Ho preso dei giornali di quella stessa parte politica, così nessuno mi può dire, come dico sempre, nessuno può fare delle polemiche strane, perché io prendo i loro stessi giornali. Il New York Times, altro giornale super progressista, dice Starbucks è sotto scrutinio per aver rimosso le decorazioni del Pride. Poi scendiamo, a quanto pare in 21 stati addirittura non è stato fatto quasi niente o sono state rimosse le bandiere, le decorazioni, eccetera. Vi leggo questa parte che ho sottolineato in verde. addirittura anche a New York, una delle città che praticamente è simbolo stesso del Pride, dove tradizionalmente insomma viene, le decorazioni sono proprio in una maniera super esplicita, questa volta erano molto in sordina, se addirittura visibili del tutto. A Manhattan alcuni negozi non c'erano decorazioni per niente. In altri paesi come il Wisconsin, l'Ohio o la Virginia, gli impiegati di Starbucks hanno detto che alcuni manager di area manager avevano detto di tirare giù le decorazioni o comunque quest'anno si sarebbe fatta meno roba. Una volta ha chiesto il perché ogni manager ha tirato fuori scuse diverse, chi diceva perché se metti le bandiere dell'arcobaleno poi devi mettere anche qualsiasi altra bandiera, chi diceva lo faccio per la vostra sicurezza, perché ci sono state minacce alla Target, vi ho parlato della Target che aveva fatto tutta la linea di moda Pride disegnata da un satanista e diciamo a livello economico non è andata benissimo questa scelta, intanto io sono bello sbaccato nel letto come potete vedere. Insomma scuse su scuse per un fatto molto semplice che quest'anno l'azienda super woke, super progressista, super inclusiva, super LGBT sta facendo molto meno. Proprio quest'anno. Addirittura qui c'è scritto che normalmente negli ultimi anni Starbucks tutti gli anni faceva delle spillette a forma di arcobaleno e le regalava agli impiegati per metterle così tutto il mese del Pride, non solo tu entri in un negozio dove ci sono le bandiere, tutto quanto, le decorazioni, le tazze, ma quando vai alla cassa a pagare c'è il dipendente con la bella spillettona che te la sbatte in faccia. Quest'anno no, come mai? Sarà mica che hanno la pippa al culettino? Sarà mica che il boicottaggio della Budweiser che gli ha fatto perdere miliardi su miliardi di valore azionario e miliardi su miliardi di vendite? Effettivamente è stato il boicottaggio più di successo della storia e adesso le aziende iniziano ad avere un po' di paura? Sarà mica perché il dubbio ci sta venendo. E questa è la prima notizia gioia, ma non è la migliore perché voi lo sapete dovete stare nel video fino alla fine perché io la ciliegina sulla torta e lì chiede il regalo. Allora, questa è un'altra immagine, un altro articolo sempre del New York Times perché a noi ci piacciono i giornali progressisti che ci dicono sempre la verità e parla di questo Starbucks a Rittenhouse Square, una zona, un'area a Filadelfia, dove nel 2018 è successa una cosa. Allora, adesso prima vi racconto cosa è successo nel 2018, poi arriviamo alla notizia. Entrano due persone di colore, stanno, a quanto dicono, aspettando un loro amico per fare un meeting, una riunione, ok? Ma uno dei due vuole andare al bagno. L'impiegato gli dice, guarda, mi dispiace, ma per policy, voi, noi non lasciamo usare il bagno a chiunque, cioè, se siete clienti, sì, se non lo siete, no. Quindi, se proprio volete usare il bagno, vi sedete, ordinate qualcosa e poi potete usare il bagno. Queste due persone di colore cosa fanno? Ovviamente fanno quello che fanno sempre o troppo spesso gli invasati che vengono purtroppo circuiti dai Black Lives Matter. Iniziano a strillare dicendo che loro stanno venendo discriminati perché sono di colore, perché se fossero stati bianchi assolutamente invece le chiavi del bagno ce le avrebbero date, poverini. E loro a questo punto decidono che assolutamente mai nella vita compreranno uno straccio di caffè espresso, un bicchiere d'acqua o qualsiasi cosa pur di usare il bagno o no, piuttosto si mettono a urlare e diventare violenti, al punto che i dipendenti chiamano la polizia. Chiamare la polizia contro due persone di colore dentro a Starbucks? Non va bene, non va bene. E succede il finimondo e quindi vengono accusati di razzismo, ok? Bene. Starbucks va in modalità controllo dei danni, ok? Dobbiamo limitare i danni di immagine per noi che siamo l'azienda più inclusiva del pianeta Terra. E quindi cosa fanno? Prima cosa, suicidio economico che solo un'azienda di fuori di testa può fare, chiudono per un giorno 8000 caffè su tutto il suolo americano per fare un training, un addestramento antirazzista. Quindi tutti i dipendenti per un giorno, invece che servire ai tavoli, fanno addestramento antirazzista. Immaginate la quantità di soldi che perdi chiudendo 8000 punti vendita. Solo uno psicopatico uscito da un'università americana può pensare una roba del genere, ovviamente. Io non lo farei mai, ma è Starbucks, è Starbucks. Non solo, bisogna far pagare il prezzo del razzismo qualcuno. Non sia mai che tu fai una, hai una regola e pretendi che la gente di colore la rispetti. Ovviamente se arriva una persona di colore e vuole usare il bagno anche senza aver consumato, tu per essere antirazzista devi fargli usare il bagno. È ovvio. Come fate voi piccoli nazi trampisti a non capire una cosa così semplice? E quindi facciamo pagare qualcuno. Chi facciamo pagare? Una persona che si chiama Willis qualcosa, adesso ci arrivo, adesso l'ho sottolineata. Philips, scusate, credo si usano di cognome, Philips comunque. La signora Philips viene licenziata, ma la signora Philips è l'area manager che ha in gestione 100 punti vendita di Starbucks, fra cui anche quello nel quale è successo il fattaccio, ok? Lei però non ci sta e fa causa, dicendo che lei è stata licenziata perché la sua diretta superiore, una donna di colore, aveva detto, le aveva dato l'ordine di licenziare 4 manager di 4 punti vendita a Philadelphia, ma non quello del punto vendita incriminato, ok? Questo Rittenhouse Square, piazza Rittenhouse. E qui la cosa diventa divertente. Indovinate un po'. La capa della signora Philips, di che colore era? Una donna nera. Ordina alla sua sottoposta di licenziare 4 o 5 dipendenti, tutti i manager che stanno a Philadelphia, casualmente tutti bianchi, casualmente quello che era il manager della piazza Rittenhouse, che è l'unico che avrebbe senso ad essere licenziato, perché è lui che gestisce direttamente il locale. Se proprio vuoi licenziare qualcuno, licenzierai il manager lì, o licenzierai i dipendenti che erano presenti in quel momento. Ma il manager di Starbucks in piazza Rittenhouse è di colore. Non solo è di colore, ma i dipendenti che hanno, ha fatto quell'atto così terribile di pretendere di rispettare le regole di Starbucks, lui li ha promossi. Quindi ha promosso della gente che in teoria sarebbe razzista. Allora, la mega capa, non so, Nord America o di che cosa sia, intima alla signora Phillips, che è l'area manager, di licenziare altri 4 o 5 bianchi, invece che l'unico nero che doveva essere responsabile di questo terribile atto d'accusa, di aver fatto rispettare le regole a due persone di colore. La signora Phillips evidentemente mostra una serie di titubanze e casualmente da lì a pochi giorni viene licenziata lei. Quindi l'unica vera licenziata è la signora Phillips e poi forse anche gli altri manager, lei non lo sa perché ovviamente lascia la compagnia. Però la notizia gioia qual è? Che lei fa causa a Starbucks. Non solo gli fa causa, ma dimostra tutte queste cose che io vi ho appena raccontato che sono sottolineate qui, ok? Vanno in tribunale, il processo si dilunga un pochino, ma alla fine il risultato, eccolo qua nel titolo del New York Times, Starbucks deve risarcire 25 milioni di dollari a una manager che è stata licenziata per cause razziste. Ma come? Ma non si era? I Black Lives Matter non avevano detto, com'è che avevano spiegato che il razzismo è solo verso i neri, nessuno, i neri sono tutti buoni, non c'è razzismo verso i bianchi, non esiste assolutamente, assolutamente. Lei è andata in tribunale, ha dimostrato la cosa, in realtà loro hanno arrotondato perché lei si becca 25 milioni e 600 mila dollari in totale. Che bello! Io non lo so, è un buon weekend, vi do un buon inizio di fine settimana in questo modo. Cominciamo il fine settimana col sorriso pensando alla signora Phillips, licenziata ingiustamente dagli psicopatici totali, perché è gente che non sa fare il suo lavoro e che grazie a questo si becca 25 milioni di dollari. Brava, godeteli, comprati la casa e fatti due risate e tutti i giorni puoi andare da Starbucks e dire toh, mi compro il vostro cappuccino schifoso a 5 dollari e ve li do perché siete dei morti di fame. Che bello! E niente, quindi oggi chiudiamo così parlando di Starbucks, spero di avervi dato qualche informazione utile, qualche spunto di riflessione dalla mia sede relax. Eccolo lì, bello rilassato sul letto, fuori gli uccellini che cantano. Chi mi ammazza? Ci vediamo al prossimo video. Come sempre, se vi è piaciuto, date un bel condividi, mandatelo a qualche mio amico, schiaffate un mi piace su YouTube per aiutare il canale a crescere perché se no i video non vengono visti. Ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao!